RITMI SERRATI Nette e convincenti, segno che il Catania ha ritrovato la giusta via. Dovrà confermarlo nel match contro il Catanzaro, che potrebbe consentire ai rossazzurri di chiudere nel modo migliore questa bella settimana e mettersi definitivamente alle spalle quel piccolo momento negativo. Ma potrebbe, soprattutto, permettere al Catania di avvicinarsi alla vetta, perché la capolista Lecce gioca contro il peggior avversario possibile, almeno in questo momento, quel Siracusa che insegue le grandi e sogna un'altra impresa. Sulla carta, insomma, con una vittoria i rossazzurri potrebbero trovarsi a un passo dalla vetta e virtualmente già al primo posto, considerato che il Lecce ha sì cinque punti di vantaggio al momento, ma ha giocato una gara in più. Insomma, se le partite con Bisceglie e Paganese erano due sparti acqua per rimettersi in carreggiata, quella con il Catanzaro può diventare un match chiave per dare la svolta definitiva al campionato. Ecco perché per il Catania è ancora una volta vietato sbagliare. Grazie a tutti.